Regalo di nozze! Wow! Sì! Voglio essere lasciata qui! Quando una luna di miele... Dove state andando? ...diventa un incubo. Che cosa sappiamo realmente di queste persone? Non c'è via di scampo. A terra, faccia in giù! Vai dietro la schiena! Eccomi, piccola. The Perfect Gateway. Una perfetta via di fuga. Domenica, alle 21, Rai 4.